E' una scelta simbolica, siamo il governo Ombra, siamo l'opposizione, sulle riforme diciamo di sì a Renzi, un percorso coraggioso, Berlusconi ha scommesso sulle riforme e Forza Italia è tutta unita intorno a Berlusconi. Un'età unita intorno a Berlusconi anche per delle riforme istituzionali che però registrano all'interno del partito qualche dissenso da parte di alcune aree? Ma il dissenso è il sale della democrazia, il fatto politico nuovo è che per la prima volta a tanti anni dalla Commissione Bozzi, dalla Commissione De Mita, dalla Commissione D'Alema, io le ho fatte tutte avendo attraversato due repubbliche, finalmente c'è un percorso di riforme che porta ad un risultato. Questo noi vogliamo dirlo con chiarezza, è un merito del Presidente del Consiglio, del Governo vero che è in carica e noi che abbiamo scelto una formula britannica per contrapporci senza equivoci all'alleanza che porta Renzi al Governo, vogliamo simbolicamente a Firenze riconoscere a Renzi il merito di aver concluso la transizione tra prima e seconda Repubblica. Il Presidente Veltroniano non è incoraggiante per i governi Ombra? Ma i governi Ombra in Italia non hanno successo perché gli italiani, come si è visto, si buttano sempre col Governo vero. Il vostro impegno è anche costruire un'alternativa politica, però come si fa questo seguendo la linea Renzi e appoggiando il Governo? Le due cose sono compatibili, io sono convinto ad esempio che la legge elettorale, l'italicum che tutti dicono, siete matti, vi buttate con una legge a doppio turno quando la sinistra vince sempre. Io vorrei farvi notare che la sinistra ha perso Livorno e ha perso Perugia, cioè le piazze più di sinistra d'Italia. Quindi è tutta capacità nostra di mettere in campo squadre vincenti e si è visto che i nostri voti si possono sommare perfino a quelli di Grillo perché a Livorno abbiamo vinto sul candidato di Grillo e a Perugia abbiamo vinto sul candidato nostro ma con i voti di Grillo. Quindi attenti perché le leggi elettorali chi le fa per vincere quasi sempre perde. C'è qualcuno che rimane fuori in Forza Italia da questo Governo Ombra? Ma ma questo non è il Governo di Forza Italia, anzi lo dico sinceramente, essendo un think tank come si ama dire, ma io sono poco esterofilo, è un gruppo di pensiero, è un gruppo di lavoro, lavora un programma, quindi è mobile. Oggi ci siamo io e qui è la ottima Fuscagni che ringrazio per l'opera che svolge. Poi magari cambiamo il premio, i ministri, il tema è dare un programma al centrodestra, un centrodestra che sonnecchia da un anno perché non è il centrodestra della forma smagliante di venti anni fa. Detto questo, chi pensa che per rinnovare il centrodestra bisogna tradire Berlusconi sta su una strada sbagliata perché il centrodestra italiano o è berlusconiano o le esperienze precedenti ci hanno detto che non è.